183 veicoli controllati, 239 persone identificate, una carta di circolazione e una patente ritirate, 31 punti decurtati, elevate 67 infrazioni di cui 55 relative alle verifiche per la violazione delle norme sui tempi di guida e di riposo dei mezzi pesanti. Sono questi alcuni i numeri dei controlli effettuati dalla Polizia Stradale del Compartimento per la Sardegna negli ultimi due giorni. Gli agenti hanno eseguito controlli a tappeto lungo la statale 131 Carlo Felice Cagliari-Sassari e nella statale 131 di Ramazzone Centrale Nurese. Nel corso dei servizi effettuati in provincia di Sassari, gli agenti hanno accertato un caso di lavoro nero. Un autista, infatti, è stato sorpreso alla guida di un mezzo pesante senza aver sottoscritto un regolare contratto con l'azienda di trasporto proprietaria del veicolo. Alle operazioni di controllo hanno preso parte 13 pattuglie della Polizia Stradale, coadiuvate dall'alto dall'elicottero del settimo reparto volo della Polizia di Stato di base nell'aeroporto di Fenoso e dalle unità cinofile della questione di Oristano. I controlli relativi al riciclaggio eventuale di veicoli sono stati eseguiti dagli agenti delle squadre di Polizia Giudiziaria.